Musica Amici di Attisport24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la palla a nuoto vista da vicino Abbiamo il piacere di avere oggi con noi l'attaccante della CSS Verona, Nicole Zanetta Ciao Nicole, benvenuta, grazie per la tua disponibilità Ciao, grazie a te Allora, iniziamo a tracciare un bilancio della prima fase di stagione Come sono andati questi mesi in cui penso che la nota più lieta sia stata riprendere a giocare? Vai! Sì, è stato bello riprendere a giocare dopo tutti questi mesi che abbiamo passato chiusi in casa È una fortuna che noi riusciamo ad avere le piscine aperte Che comunque il nostro campionato si riesca a giocare anche in un periodo così delicato per tutto il mondo Quindi siamo fortunati È bello, diciamo, particolare perché rispetto agli anni scorsi che giocavamo ogni settimana È più impegnativo giocare ogni due settimane o comunque a tempi molto più estesi Quindi bisogna avere una maggiore concentrazione, abbiamo molto più tempo per lavorare però E allo stesso tempo abbiamo anche meno possibilità di giocare contro altre squadre O di fare amichevoli per poterci conoscere meglio Diciamo che ci è voluto più tempo essendo molte giocatrici che sono arrivate da fuori per conoscerci Quindi partita dopo partita abbiamo messo un tassello e ogni allenamento ci stiamo impegnando A costruire di più e a capirci per poter arrivare ad essere una grande squadra Tutte unite e a conoscerci a memoria Che tipo di lavoro ha svolto la squadra in queste settimane di pausa Seguiti alla fine della prima fase del torneo? Allora sicuramente essendoci la settimana di pausa completa abbiamo dovuto caricare E ci siamo impegnate a livello fisico con palestra e tutto Ci stiamo impegnando molto come ti ho detto prima Non potendo giocare ci stiamo impegnando molto a creare delle situazioni tattiche Molto più simili al gioco in modo da riportarle in partita Di riportarle per crearle il più simile possibile alla partita Quindi ci stiamo impegnando a conoscerci e a capirci A comprendere bene gli schemi e a comprendere a memoria la compagna che abbiamo di fianco Quali sono gli aspetti del gioco su cui il gruppo può registrare i maggiori margini di progresso? Allora sicuramente siamo un gruppo giovane Con però quest'anno nazionali o gente di esperienza che può dare una mano a noi ragazze più giovani e meno esperte Siamo un bel gruppo Un gruppo che si può cambiare Intercambiabile Esatto, intercambiabile Tutte possono giocare, tutte devono giocare E è giusto che avendo magari giocatrici come Roberta Bianconi, come Arianna, come Carolina Che sono ad interesse nazionale Ci ispiriamo a loro e che cresciamo guardando loro E che loro ci diano una mano per creare un grande affiatamento e grande squadra Siamo veloci, siamo precise C'è sempre però il problema che giocando relativamente poco non riusciamo ancora a conoscerci bene Però quello poi verrà con il tempo Quindi secondo me piano piano poi riusciremo a far vedere anche delle belle cose Già delle belle giocate si sono viste anche se ancora magari non siamo al top Diciamo che siete come un diesel che ha bisogno di un po' di tempo ancora per carburare al massimo Esatto, esatto Allora sei giovanissima e so anche che questa per te è la prima esperienza al di fuori del tuo ambiente nativo Rapallo Come sta procedendo? Bilancio personale, vado per il bilancio generale Vediamo il bilancio personale Allora a livello personale sono molto contenta Molto contenta perché è sempre difficile andare via da casa Anche se magari sai che è una cosa che devi fare Perché logicamente non puoi stare tutta la vita nella stessa società o comunque con le stesse persone Quindi è stato complicato decidere di andare via da casa Però allo stesso tempo quando sono arrivata qui è stato bello Mi sono sentita subito a casa Ho trovato delle grandi persone, ho trovato un grande allenatore e una bella società con dei grandi obiettivi Quindi diciamo che c'era la paura prima di partire ma quando sono arrivata poi è andata via tutta Subito dopo pochi mesi, dopo quasi già una settimana era già come se fossi qui da sempre È bello giocare Ti sei ambientata praticamente alla velocità della luce Ci sono ambientata subito e credo di dimostrare comunque è una bella società, è un bel ambiente Si lavora bene, si lavora tranquilli, sereni e si lavora proprio bene Sabato parte la seconda fase tecnicamente definita come il preliminary round scudetto Nel quale le prime quattro formazioni classificate sia al termine dei gironi della fase precedente Si sfidano per determinare quello che dovrebbe essere l'ordine delle semifinali playoff Io ti chiedo, prima di analizzare la prima partita Se io facessi un'ipotetica griglia e ti dico che per ora la CSS Verona parte quarta Che cosa penseresti e soprattutto pur partendo quarte potete partire quarte con licenza di sorpresa O pensi che sia ancora prematuro dire questo? Ma secondo me siamo una squadra che può dare fastidio Nel senso la CSS è sempre stata così, io me la ricordo che ho giocato contro anche quando giocava a rapallo Era una squadra che magari sapevi che era in A1 da poco E quindi non ti aspettavi delle partite giocate gol a gol O comunque che avessero così tanta voglia, così tanta fame di giocare E invece la forza della CSS è proprio questa Una grande sfacciataggine, una grande volontà Che ti porta anche a mettere in difficoltà squadre che a livello, sulla carta diciamo Dovrebbero essere più forti Quindi secondo me possiamo dare fastidio Questo tentativo di dar fastidio, come lo hai definito tu, inizia da sabato Con la sfida interna contro la Lifebrain Sisse Roma Che tipo di partita ci possiamo aspettare? Spero sia una partita, sarà sicuramente una partita impegnativa Alla quale noi dovremo entrare e dimostrare tutto quello che sappiamo fare E tutto quello per cui abbiamo lavorato fino adesso Mi auguro sia una partita intensa, giocata gol a gol E che si faccia vedere una grande palla nuoto Daremo fastidio, noi entreremo, te l'ho detto Entreremo molto concentrate, molto cariche Guardando, esatto, cariche, guardando le avversarie E cercando di dare il nostro meglio E di far vedere che ci siamo anche noi Che gareggiamo per questo spazio Volete dire la vostra, insomma Ti vedo veramente determinata Non alla grande, alla stragrande Se dobbiamo analizzare i primi avversari di questo cammino La formazione capitolina Quali sono i punti di forza? Eh, allora Un po' lunghetto l'elenco, secondo me Diciamo che, allora Te l'ho detto I punti di forza è che siamo Secondo me la cosa più importante È il fatto che siamo veramente tutte intercambiabili No, perdonami I punti di forza te li ha avversari Ah, ok Scusami, allora Mi sono confusa Eh, i punti di forza sono tanti Allora, a quel punto di vista lì È una squadra che Comunque sono squadre che si conoscono È il contrario, tra virgolette, nostro Sono squadre già formate Che si conoscono a memoria Che giocano magari da anni assieme E quindi hanno una grande foga Una grande forza e voglia di vincere Sanno su che cosa possono puntare Chiudiamo la nostra chiacchierata Con un'ultima domanda So che di recente Lo leggevo anche oggi sui giornali Vi siete rese protagoniste Di un gesto davvero bello Nei confronti di una compagna Che viveva un momento di particolare difficoltà Ce ne vuoi parlare? Ci vuoi spiegare nei dettagli di cosa si tratta? Allora, noi volevamo essere vicini A questa nostra compagna di squadra Che purtroppo ha subito Elena Borg Elena Borg Sabato è stato fatto anche Quando abbiamo giocato È stato fatto anche un minuto di silenzio Per sua mamma Volevamo essere vicine a lei Perché purtroppo lei è dovuta partire E tornare a Malta Perché i suoi genitori abitavano lì E abbiamo parlato con lei E volevamo fare un grande gesto E quindi d'accordo con tutta la squadra Abbiamo deciso di appoggiarci A questa fondazione Sulla violenza contro le donne E abbiamo deciso di creare Una donazione E di dare un appoggio A questa cosa Che è veramente importante Che purtroppo ancora adesso nel 2021 Ci sono grandi Grandi problemi Su questa Sulla violenza contro le donne Su questa tematica Va bene Siamo giunti al termine Della nostra chiacchierata Ringrazio Nicole Zanetta Per la sua disponibilità E do appuntamento ai nostri spettatori Per la prossima puntata Ciao Nicole Grazie Ciao Grazie a te Grazie a te